eccoci qui eccoci qui amici sportivi con un'altra puntata secondo me abbastanza calda e lo capirete subito anche dal primo titolo della trasmissione perché vorremmo ipotizzare un corto circuito e cercare di approfondirlo ne abbiamo già parlato qualche volta in precedenza per la verità però stride l'idea che il palermo sia a un punto dal raggiungimento dei playoff ma in un clima di malcontento di critiche piuttosto robuste nei confronti del tecnico corini con malcontenti abbastanza diffusi su tutti i commenti social addirittura c'è chi vuole ancora la testa di corini chi parla di fallimento ma siamo a un punto da playoff e lo siamo con la prospettiva di due incontri casalinghi e un esterno quindi non certamente in posizione particolarmente sfavorevole poi si può dire di tutto che il palermo gioca bene o che gioca male che corini faccia errori oppure no però mi pare che ci sia quello che io definirei un corto circuito e su questo interveremo subito abbastanza presto con salvatore seraci che saluto e che vedo con al solito in grande forma ciao salvatore ciao giuseppe leone eccoci qua abbiamo fatto un salto generazionale di una cinquantina d'anni ed eccoci con fabrizio vitale il nostro capo banda che ha problemi con l'auricolare mi sto aggiustando l'auricolare ma va bene lo stesso buona giornata buon pomeriggio ciao guido ciao a tutti però mi senti quello della diretta mi senti da qui quindi non c'è problema sentiamo invece salvatore seraci che ci parla di questo cosa se condivide che c'è un cortocircuito è una cosa stridente fra una realtà comunque in teoria positiva perché dico la salvezza non mai raggiunta che era quella programmata i payoff ci possono arrivare e intanto c'è un malcontento sempre più diffuso ma a me sembra intanto che non ci sia assolutamente equilibrio proprio l'equilibrio che manca in tutte le forme in tutte le maniere probabilmente da una parte e dall'altra in serie più una situazione del genere non si era non si era mai vista ma quello che è assurdo e che il malcontento aumenta perché corini è stato sempre il bersaglio dal primo giorno francamente non capire non riesco a capire il motivo perché una nuova società un nuovo allenatore una nuova gestione un nuovo modo di affrontare le cose bisognava che anche l'ambiente si adeguasse a una a una nuova realtà la situazione per me è stata anche gestita un po un po male perché il palermo doveva consolidare la b il traguardo il traguardo l'ha raggiunto sono state le fasi intermedi che hanno fatto un po saltare certi equilibri si è sbagliato per esempio quando sicuri degli investimenti di gennaio squadre società hanno alzato l'asticella cioè solo uno come me poteva pensare ad un certo momento che il palermo veniva promosso direttamente ma corini e compagni avrebbero dovuto smorsare fin dall'inizio ogni entusiasmo e divertirsi sull'onda di un palermo che si vedeva cresceva a vista d'occhio ma che poi non ha saputo diventare protagonista allora ti fermo un attimo salvatore scusami ti fermo un attimo perché con la collaborazione anche del dei nostri familiari della community no vorrei fare una prova audio perché mi segnalano qualche problema di audio forse anche sul mio microfono non so se quello di fabrizio tanti commenti che qualcuno non quindi se mi se mi dite da casa se sentite bene finalmente oppure no adesso pronto 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 ci dovremmo essere io ti sento bene sì ci sentiamo tutti bene va bene allora forse qualcuno ha avuto un altro problema però era meglio accertarci prima anziché farti parlare a vuoto quindi volevi concludere il discorso posso concludere subito cioè coprire questa evidenza cioè che il palermo non non sia diventato protagonista assoluto è stato un errore perché da tempo ha rallentato a non ha più continuità non sfrutta le occasioni gioca bene ma per poco e questo e questo la gente lo ha visto quindi sai per me è stata una stagione sicuramente positiva ma diventa diventa negativa perché ognuno forse ha fatto la propria parte in maniera diversa da come era lecito attendersi da una società così composta vediamo giuseppe leone cosa ne pensa scusa intanto ti dico che ci continuano a segnalare problemi di uscita audio questa è una segnalazione chiaramente per la nostra regia procedi pure ma procede con giuseppe leone che voleva intervenire ma guido che dire diciamo se restiamo alla partita di ieri di fatto vediamo abbiamo visto una partita molto simile alle altre giocate dal palermo stanno ma a questo punto vedendo i risultati delle altre squadre mi viene da dire una partita molto simile a quello che è di fatto l'andamento di tutta la serie b e non è un caso che se il palermo non vince da più di due mesi sia ancora lì a tre giornate dalla fine a giocarsi un posto nei playoff con un solo punto di distanza e per quanto riguarda il cortocircuito di cui tu parlavi il disco l'espressione giusta per me l'ha usata poco fa l'ha centrata in pieno poco fa salvatore ma ne abbiamo anche parlato tante altre volte c'è stato un momento in cui un palermo che cresceva a vista d'occhio a un certo punto non si è più divertito proprio nel momento in cui doveva semplicemente divertirsi perché comunque aveva scollinato il periodo più più difficile si era messo alle spalle ora poteva essere potevano essere veramente due tre mesi di di divertimento per la squadra quanto quanto per i tifosi ora vediamo che cosa che cosa si prenderà il palermo fermo restando che comunque come dicevi tu giustamente inizio trasmissione l'obiettivo più importante quello della salvezza è stato centrato però mi sorprendono tante cose perché lo chiedo anche a fabrizio vitale che l'altra volta tra l'altro ha detto che una cosa abbastanza pepata per così dire cioè tu l'altra volta mi avevi detto anche che molti commenti sul web di questi catastrofisti sono a volte anche un po guidati se vi ricorderete io ho detto anche se c'è qualcuno favorevole a corini lo scriva se no almeno sulla rappresentazione grafica sembra che ci sia uno sbilanciamento notevole ma soprattutto mi sembra che corini sia un uomo solo al comando lui lui parla a nome un po di tutti perché non ho sentito dichiarazioni della società dei vertici societari del da parte del direttore sportivo e corini mi è sembrato anche un po più appesantito negli ultimi periodi evidentemente anche direi anche giustamente per alcuni versi sfibrato da critiche secondo me a volte condivisibili ma in ogni caso espresse con una durezza di linguaggio che poco si addice a una squadra che secondo me ancora è in pista quando poi si dice per esempio ma vedi che il palermo ha vinto una sola volta nelle ultime 12 partite è vero però ne ha perso anche soltanto due i pareggi non sono divertenti non sempre le partite sono belle non l'è stata tanto per citare le ultime quella in casa col benevento non è stata bella tranne i primi 20 minuti neanche quella di como dove comunque il palermo ha conquistato un punto positivo però ci sono ancora margini di riuscita ha messo poi e questa è la mia teoria che arrivare ai playoff sia così importante perché poi se tu arrivi ai playoff da settimo o da ottavo e fai la comparsa per una sola partita non è che ti cambia il mondo semmai possiamo dire che questa squadra almeno secondo me in prospettiva non mi sembra una squadra da serie a ai playoff quindi ci può essere la soddisfazione di raggiungere un momento particolare però la situazione è abbastanza ancora rimediabile non certamente questo che io chiamo cortocircuito e che presuppone dicevo commenti spropositati rispetto al risultato ma se si parte dal presupposto dell'obiettivo che era stato prefissato probabilmente io qualche settimana fa ho parlato di grande equivoco nel senso che c'era un obiettivo poi è stato deciso di spostarlo se lo spostamento dell'obiettivo è diventato obbligo allora poi possiamo discutere ma non credo che fosse l'obbligo detto questo secondo me ci vorrebbe un intervento da parte della società per fare un po' di chiarezza ancora una volta perché credo che nel silenzio il rischio di disperdere un po' quelle che sono i dettami di questa stagione c'è e sta avvenendo poi discutiamo dell'andamento da playout perché è un andamento da playout del Palermo possiamo approfondire e cercare di capire perché sta avendo questo andamento questa squadra dove stanno le colpe di Corini dove stanno le colpe della società se ci sono altre responsabilità perché comunque ragazzi io vedo una squadra da almeno 5-6 partite monotematica monocorde monopasso cioè questa è una squadra che inizia gioca bene i primi 25 minuti spesso va in vantaggio poi va pian piano rallentando si fa recuperare e non corre come gli altri avversari spesso quindi per me secondo me le componenti sono tante poi se si vuole dare la colpa solo a Corini la possiamo dare per come può gestire le gare per come magari la interpreta a seconda dell'avversario però secondo me le componenti sono tante cioè non c'è solo Corini beh per intensificare il discorso per allargarlo e anche anticipando un po' il secondo sì Salvatore volevi intervenire no volevo volevo soltanto dire che se c'è solo Corini ma è così è dall'inizio del campionato che c'è solo Corini cioè Corini è tutto in questo Palermo è anima cuore lavoratore muratore e architetto insomma e ogni volta mette lui la faccia su tutte le su tutte le situazioni possiamo dire che probabilmente è un nuovo modo di pensare le cose ma se si deve fare anche i conti con quella che è la realtà palermitana perché è normale che qui è stato sempre un po' un una una situazione incandescente quando la squadra non è andata bene non è che i tifosi siano stati calmi e tranquilli per cui arrivato a un certo punto la società deve trovare un filtro e un modo per proteggere il proprio allenatore per proteggere i giocatori perché non è assolutamente possibile che una che una squadra che fa quello che la società aveva aveva promesso e premesso in questo momento sia bersagliata malgrado il fatto che sia in piena lotta per i playoff e con la possibilità di due partite in casa ed una in trasferta cioè dobbiamo ritrovare una normalità che in questo momento sia assolutamente persa e sono d'accordo salvatore ma quando tu dici per esempio corini ha fatto un po tutto dal manovale all'architetto e io ti aggiungo anche che certamente non può essere il difensore di se stesso per quanto lui abbia sopportato le critiche con con buon spirito di pazienza con con tranquillità in linea anche con il suo carattere però ecco mi sarei aspettato che venisse fuori qualcuno dei dirigenti più vicini alla squadra per dire ragazzi ma perché va la pigliata con corini è esattamente quello sembra quasi che difendiamo noi la società che è l'ultimo dei miei pensieri però anche scusa guido bastava anche però dire anche nei momenti migliori nei momenti in cui il palermo era sesto in classifica eccetera eccetera ragazzi calma non illudiamo nessuno noi continuiamo la nostra corsa perché fino all'ultima giornata diremo che noi dobbiamo consolidare la posizione punto e basta se poi è arrivato a un certo punto si dice che questa squadra invece ha alzato l'asticella e che gioca sempre bene sempre sempre bene è sempre colpa di un episodio è sempre colpa di chissà quale altra cosa allora no questo non non è normale dai anche qui è un alzare le ricche parli di corini ovviamente sì parlo di corini non perché corini sia l'anima nera della della società corini per me è un grandissimo perché l'interprete della società diciamo ma è l'interprete di tutto quello che ruota attorno la voce narrante perché in effetti è così salvatore hai fotografato bene fabrizio uno dei problemi anche quello della della comunicazione se tu pareggi lascia stare perché a me come mi è sembrato un pareggio giusto si poteva provare a vincere ma rischiavi di perdere ma sinché si pregge in trasferta mi insegnava di marcio tutti i santi aiutano semmai possiamo lamentarsi del pareggio con cosenza del pareggio casalingo col benevento delle prestazioni opache di quel secondo tempo di venezia benevento che ha pareggiato col parma non dobbiamo disperdere energie non guardare il resto del campionato no no bisogna guardare tutti e due gli aspetti tutti gli aspetti ma ti dico se però tu giochi col benevento è onestamente giocato male e ti senti dire il percorso va avanti stiamo giocando bene sono soddisfatto secondo me secondo me il palermo è entrato in un loop perché mancano le vittorie allora mancando le vittorie è subentrato secondo me anche un atteggiamento psicologico di guardarsi comunque sempre un po dietro per quanto la distanza era ragguardevole però a un certo punto subentra la psicologicamente l'idea di dire qua non la riesco guarda non la riesco a vincere la pareggio faccio un punto muovo la classifica vediamo la prossima volta se riesco a vincere quando corini l'altra volta in conferenza stampa ha detto se quel gol di bro ce l'avessero convalidato avrebbe costituito una spinta emozionale avrebbe portato probabilmente a switchare l'andamento in queste ultime quattro giornate è chiaro che è un episodio ma probabilmente questa squadra per come strutturata per le pressioni che sta ricevendo da quando è stato innalzato innalzata l'asticella tende a non andare oltre tende a un atteggiamento conservativo probabilmente l'allenatore manda anche questo messaggio i giocatori non fanno nulla però per farglielo cambiare io sono quasi di tutto d'accordo nel senso che sono convinto che corini fino almeno alla partita di col benevento abbia avuto sotto sotto la paura di poterla perdere di poter vedere il palermo di nuovo coinvolto nella zona per non retrocedere e magari senza quegli attributi che a volte ti servono in certe circostanze per per rimediare a dei problemi giuseppe leone tu hai condividi intanto questo discorso di fabrizio e se poi mi dici il tuo parere anche sotto l'aspetto della comunicazione da parte di corini ma guarda lo condivido non ti sento giuseppe non so se sei tu o siamo noi cosa pronto no io lo sento perfetto vai giuseppe dicevo lo condivido in pieno se non altro perché nel mio primo intervento poco fa ho detto proprio questo cioè la partita del palermo di como è stata simile a tante altre partite del palermo ma mi viene da dire anche a tantissime altre partite di tutto il campionato di serie b che comunque è all'insegna del dell'equilibrio sulla comunicazione guarda guido io credo che ormai siamo ci stiamo abituando non in tutte le società per carità però ci stiamo un po abituando a vedere anche grandi squadre anche grandi società che mettono avanti a tutti davanti a tutti un front man che di fatto spesso e volentieri e e l'allenatore che di fatto cura cura la tutta la comunicazione diventa un po il parafulmine di di tutto un contesto di tutto l'ambiente tipo è il modo è il modo inglese probabilmente lo stile inglese è un modo inglese ti posso fare esempio della juventus mi viene in in italia anche l'esempio della della roma mentre invece ci sono magari altre situazioni più vecchio stampo vedi napoli dove comunque c'è un allenatore che sicuramente di comunicazione ne capisce ma c'è anche un presidente ingombrante però se anche vero che è un modo inglese e questo lo condivido giuseppe però è anche vero che probabilmente in inghilterra il tecnico dell'everton che perde tre partite non viene costantemente messo in croce dai dai tifosi in questa maniera ho detto everton ma in realtà poi l'everton sta quasi retrocedendo quindi non è il caso giusto ma insomma ecco di una squadra che a metà classifica fa il suo dovere crystal palace immagino che ne so non 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 ci sono questi attacchi frontali contro il tecnico che secondo me possono essere giustificati in alcuni casi nel nei fatti ma non nei toni no assolutamente in inghilterra diciamo quello che pesano sono magari le figuracce le figuracce singole quando perdi 5 a 0 6 a 1 lì chiaramente del malumore c'è però quando fai il tuo dovere chiaramente ecco se il palermo giocasse nella in premiership e facesse il campionato che ha fatto non credo che ci sarebbero le le critiche che corini sta subendo qui qui a palermo fabrizio tu hai già visto un poco di messaggi ti sei fatto un'idea sul polso del della nostra community ma i nostri ascoltatori sono un po divisi pro corini contro corini dibattito sempre molto acceso come sempre e di questo vi ringraziamo perché ci offrite anche tanti spunti di approfondimento di conversazione io comincerei da carmelo amato che dice buon pomeriggio si deve guardare al prossimo campionato facendo un calciomercato pronto per la preparazione stile e non come l'anno scorso su corini il prossimo anno ci saranno più pressione e compre una pressione che riguarda anche la squadra poi io però scusami si deve guardare il prossimo campionato è sicuramente incontestabile cioè dovremo già ora stabilire chi nel prossimo campionato ci sarà però non puoi non dare uno sguardo al presente visto che il presente è fatto ancora di una classifica cortissima ci sono otto squadre che possono ammire a due posti più o meno considerate io non so se la regia c'ha pronta la classifica anche per dare uno sguardo graficamente più facile alla situazione attuale ecco però considerando anche che con ogni probabilità la regina subirà un'altra penalizzazione e quindi sarebbe fuori dei giochi se veramente i punti di penalizzazione diventassero sette e due posti per se fino alla ternana tutti possono sperare si possono entrare quindi io il presente lo guarderei anche ancora messaggi andiamo con agostino per nisce palermo di pisa venezia cittadella e coma avrebbe vinto senza marchiani errori individuali difensivi poi abbiamo piero mandracchia che invece non è d'accordo la partita di ieri fotocopia di tante altre a parte il venezia mi pare che tutte le pretendenti playoff abbiano difficoltà e vadano all'intermittenza beh a parte di venezia che però sta volando si sta volando in venezia però è vero anche che partiva dai bassi fondi ha fatto più o meno 30 partite e sempre in posizione da retrocessione rosario adriano orlando di nuovo punti persi ma siamo sempre lì ad un passo dei playoff ed è giusto provarci giocarcela sino alla fine guardando cosa fanno le altre ancora agostino per nisce lo rimando perché interessante questo spunto di riflessione la campagna di gennaio non ha aiutato tuttino in conclu in concludente verre a sprazzi è argomento del secondo blocco di trasmissione sia tuttino che verre che il calcio mercato di gennaio su questo poi saremo ancora più duri sto dando un ulteriore occhiata taglia via palo taglia via sarebbe sbagliato considerare con la distanza che la distanza un punto sono almeno due considerando che in caso di classifica avulsa molto probabile siamo in svantaggio con tutte le papabili tranne moda la meno probabile intanto io guarderei presente comunque va bene ma siamo d'accordo invece sul fatto che con due vittorie con le due vittorie in casa il palermo vai playoff visto anche come stanno andando le altre abbiamo detto l'abbiamo detto in parte sì sì volendo sì il problema che queste vittorie in queste vittorie questa squadra ci crede questo allenatore è in grado di tirarle fuori a questa squadra questa società ci crede e perché se non ritorniamo appunto di prima quello che diceva salvatore cioè secondo me è sarebbe il momento che si lanciasse un messaggio per chiarire alcuni dubbi io ti dico che con sei punti secondo me ci andiamo anche se verosimile che come spesso avviene poi nelle ultime tre vinceranno anche altre squadre dipenderà poi anche dalle posizioni di classifica è la solita fortuna dei calendari cioè se tu incontri il frosinone due settimane fa è una cosa solo incontri fra due domeniche è un'altra cosa se incontri il bressa sì però però sai questo è un calcolo teorico perché la serie b hai visto come ci sta sorprendendo in tutte in tutte le maniere possibili e impossibili cioè questo è un campionato che veramente ha affascinato per la novità la novità qual è che tutte le squadre sono cioè sullo stesso piano insomma non è che c'è una grandissima differenza fra la prima e l'ultima perché tutte tutte fanno delle cioè oddio fra forse non è l'ultima magari c'è la differenza però intendo dire che c'è un blocco di squadre che che rappresenta la normalità e che quindi tutto tutto è possibile noi diciamo che il palermo può vincere le due partite in casa certo sicuramente le può vincere tutte e tre povici e pur a a cagliari non è questo il problema ma la verità è che poche squadre in questo momento hanno fatto grandi filotti di risultati e quelle sono sicuramente le candidate maggiori al successo perché è chiaro che un venezia così in spolvero ti dà più garanzie di quanto te ne possa dare il modena in questo momento su questo non c'è dubbio per me sono d'accordo con te è il venezia la squadra più favorita in questo momento perché alla rincorsa bella bella tosta ci fermiamo perché c'è la pubblicità però poi torniamo e parliamo di ancora di calcio mercato degli effetti poco positivi del calcio mercato di tutino di verra e di tanto altro bene rieccoci allora fabrizio ancora messaggi ce ne sono tanti come sempre e di questo ovviamente vi ringraziamo e come sempre ci scusiamo se non potremo certamente leggerli tutti cominciamo con marco felice per me corini non ha colpe particolari secondo me la squadra non è pronta a fare il salto di qualità soprattutto per limiti mentali e tecnici specialmente in difesa poi invece giuseppe di salva addirittura vorrebbe un altro allenatore l'anno prossimo mi piacerebbe vedere aimo diana un allenatore che in due stagioni ha fatto tantissimi punti è vinto una serie c dico per carità aimo diana si è confermato un buon allenatore però tu immagini aimo diana che fa due pareggi in serie b e gli cominciano a dire da dove vieni vattene in serie d ma qua noi possiamo discutere di tutti gli allenatori possibili e immaginabili l'anno prossimo il palermo che piacciono sarà chiamato a vincere quindi se vuoi scegliere un allenatore devi sapere chi sta scegliendo e in base a chi sta scegliendo gli devi fare la squadra se deve arrestare corini come previsto dal contratto gli devi fare la squadra cioè io non credo che ci sia molta filosofia da fare cioè non è che ci sono gli sciamani oggi che ti portano in serie a con il fiato magico o spingendo le menti con sedute spiritiche cioè il calcio è una cosa seria bisogna avere le idee chiare su quello che si vuole fare dall'allenatore alla squadra almeno secondo me ma vogliamo dire una cosa Fabrizio chi è che ha vinto quest'anno il campionato di serie b? uno che non l'aveva mai vinto no il Frosinone no? sì ma un allenatore che non l'aveva mai vinto sì e al secondo posto ci arriva uno che non l'aveva mai allenato non solo questo ma l'anno scorso il Frosinone non si è qualificato per il playoff ma l'ho detto la scorsa puntata esattamente questo appunto ragazzi capita una cosa del genere ma se tu hai un programma prestabilito e lo segui fino all'ultima lettera è tutto normale ma ci vuole una società che sappia affrontare un momento del genere dai diciamolo chiaramente non è che tutto può ricadere sulle spalle di Corini diventato il mago del Palermo l'uomo che sa tutto e che può fare di tutto no ma di fatti però io per Salvatore scusami se io insisto su questo argomento non siamo neanche in disaccordo il problema è che in un mondo a cui eravamo abituati non so se è più giusto o sbagliato Corini poteva dire quello che voleva poi c'era una società che faceva sentire il suo parere non coincidevano come adesso le due posizioni io ti potrei aggiungere al tuo discorso su Grosso a cui facciamo i complimenti per la sua vittoria Fabio Grosso resta un figlio di questa città sicuramente ti potrei aggiungere che Gilardino che dovrebbe andare in Serie A settimana prossima non aveva mai allenato a questi livelli che a terzo posto c'è Mignani che non mi pare che abbia trascorso in Serie A e che al quarto posto con Sud Tirol no? sì Sacchi? no Allegri? Bisoli ah va bene allora questa è la fotografia e la Serie B quest'anno ha bruciato credo qualcosa come 5-6 allenatori 35 allenatori credo 35 in totale però diciamo 5 di quelli subentrati almeno 5 li ha bruciati quindi siamo su fronti completamente diversi c'è una cultura calcistica in Inghilterra ce n'è un'altra in Spagna ce n'è un'altra in Italia dove si sta cercando di cambiare determinate cose ma Allegri è solo alla Juventus l'ha detto benissimo Giuseppe poco fa gli faccio un applauso ragazzi noi parliamo di Corini ma Allegri che cosa fa? fa tutto in questo momento è lui la comunicazione della Juventus è vero anche se poi la Juventus in questo momento sta vivendo altro tipo di problemi quindi è su più fronti impegnato insomma è una situazione un po' anomala anche per la Juventus anche la nostra è una rivoluzione Guido anche la nostra è una rivoluzione quella di Palermo quando mai Palermo ha avuto una società che pensa e agisce in questo modo che sembra mai presente ma che probabilmente poi lo è per i fatti suoi per inquadrare bene le situazioni questi sono venuti qua e hanno detto ragazzi quest'anno consolidamento loro sono felici e contenti hanno realizzato quello che volevano i problemi partono semmai dalla prossima stagione se loro se li vogliono creare io non lo so ancora perché non so questi dove vogliono arrivare in sede però di programmi hanno detto che la loro idea è quella di portare il Palermo sempre più in alto e io volevo ricollegare a quello che stava dicendo Salvatore facendo un esempio ma non per dire che sia giusto o che sia sbagliato l'anno scorso il Girona era terz'ultimo in campionato non è stato esonerato l'allenatore l'allenatore è andato ai playoff bene o male come ci potrebbe andare se ci andrà il Palermo è stato promosso e quest'anno è decimo in Liga c'è sempre lo stesso allenatore pensate in un anno che parabola ha avuto questo tecnico dal possibile esonero terz'ultimo in classifica in Serie B spagnola al decimo posto e la scorsa settimana ha rifilato 4 gol a Real Madrid per cui non c'è una regola esatta ci sono delle situazioni da fare secondo me incastrare a livello tecnico e poi non sappiamo se il modello vincente è questo oppure è quello di cambiare però una riflessione sul Girona io la volevo fare perché francamente è molto sintomatica e diciamo che ieri ne hanno rifilati anche due a Siviglia se non ricordo male esatto e stiamo parlando del City Group di come gestisce il City Group poi scopriremo se nel caso di Palermo può essere giusto o può essere sbagliato però il precedente è abbastanza chiaro lo dico io prima che qualcuno lo scriva il Troyes in Francia però sta retrocedendo esatto però lì è un'altra realtà ancora quindi diciamo non possiamo confondere situazioni estremamente diverse allora ci sono ancora commenti però io volevo passare al secondo argomento impegnato della giornata perché vorrei parlare del calcio mercato il titolo adesso comparirà il titolo eccolo qua Tutino, Verre e il flop del calcio mercato il Palermo non è decollato e stamattina facevo un discorso con Salvatore un ragionamento noi abbiamo fatto nelle ultime 12 partite una media di un punto a partita che è una media che porta a un totale in teoria di 38 punti e quindi a una retrocessione se siamo con qualche punto in più in lista d'attesa per i playoff è perché il Palermo pre-mercato autunnale aveva messo del fieno in cascina con quella striscia di 9 partite utili e se non ricordo male Fabrizio tre vittorie a gennaio più o meno ma prima che ci fossero gli innesti del calcio mercato allora cominciamo da Giuseppe questa volta Giuseppe è un fallimento questo calcio mercato? io amplio la domanda così mi piglio anche le mie responsabilità a me Tutino non mi è sembrato un giocatore decisivo poi possiamo stabilire se ci sono colpe sue oppure no però non si è integrato per come si sperava è di verre possiamo dire tutto il bene del mondo anche ieri ha giocato una grande partita ma mi devono spiegare perché un giocatore che è in piena salute con tra l'altro un trascorso giornale d'andata in Serie A sia arrivato a corto di benzina e non può andare oltre i 60 minuti a partita allora Guido sicuramente l'analisi potrebbe essere lunga cercherò di essere veramente breve intanto dobbiamo essere coerenti almeno cerco di esserlo io alla fine del mercato di gennaio io ero il primo a fare i complimenti al Palermo per come aveva gestito la campagna di riparazione sia dal punto di vista delle uscite che anche dal punto di vista delle entrate dove era riuscito a mixare degli ingressi di esperienza e altri vedi graves presi dall'estero quindi sui nomi Verre e Tutino io non credo che lì per lì qualcuno avrebbe detto ma chi sta prendendo il Palermo è chiaro però che nei mesi si sono rivelati non dico dei fallimenti ma quantomeno delle delusioni parlo soprattutto di Tutino che dopo un discreto impatto iniziale è una buonissima partita l'unica credo contro il Modena poi ha fatto vedere veramente poco anche ieri l'ho visto girare spesso a vuoto senza fare nulla di trascendentale è solo colpa loro è colpa di chi li ha gestiti è colpa anche del caso perché per quanto riguarda Verre oggettivamente negli ultimi mesi ne ha passate di ogni febbre, infortuni, influenze e quant'altro questo non lo so è chiaro però che nei piani del Palermo di Corini questi acquisti dovevano darti quel qualcosa che alla fine della fiera non ti hanno dato e come giustamente dicevi tu se oggi sei salvo e se oggi malgrado tutto sei a un punto dalla zona playoff è per merito soprattutto di quella squadra che avevi costruito ad agosto a ridosso dell'inizio del campionato non per merito degli acquisti di gennaio Certo, Salvatore il tuo parere è un problema di chi ha scelto i giocatori di chi li ha suggeriti di chi li ha allenati e di chi li ha messi in condizione atletica magari anche ma siamo sempre al solito discorso io vorrei sapere dalla società dal direttore sportivo e da Corini da tutte e tre insieme com'è stato fatto il calciomercato io parlo soltanto ed è giusto che parliamo di Tutino e Verri che sono un po' quelli che ovviamente lo hanno condizionato noi abbiamo preso due giocatori che avevano bisogno sicuramente di un grande abbraccio uno Tutino perché non si era integrato in determinate situazioni e che quindi non riusciva ancora ad essere il giocatore splendido che avevamo ammirato con la Salernitana e l'altro Verre che in Serie A non aveva trovato la sua dimensione e che quindi accettava Palermo li abbiamo presi perché in prospettiva possono essere due che saranno i protagonisti del Palermo del futuro oppure per noi erano già pronti per essere inseriti perché Tutino continua a deludere ma le sue qualità non è che siano in dubbio un motivo ci sarà io non lo conosco a fondo mi sembra un bravo ragazzo che ha bisogno però di fiducia e continuità non dimentichiamolo questo se vuoi che possa esplodere deve investire sulle sue qualità ma non farlo sembrare sempre in dubbio perché era questo il problema di Tutino è Verre Verre non si discute per fattori fisici ritengo non ha reso secondo le aspettative e paradossalmente sul piano tattico avrebbe creato un problema che non era previsto per cui la squadra e siamo a tre partite dalla fine non ha ancora trovato il suo equilibrio era tutto previsto anche questo o è stato un fulmine al Cessereno comunque sicuramente Verre non si discute e se gira lui è un altro Palermo lo abbiamo visto nella prima mezz'ora di Como è vero però è durato un'ora anche meno ma anche la squadra secondo me dura poco rispetto a quello che potrebbe dare è vero che questa squadra come organico ha speso tantissimo nella grande rincorsa per togliersi dalle secche della classifica però io vedo una squadra a cui manca l'esplosività probabilmente è fisiologico in questo momento del campionato sia alla fine però io in altre squadre questa esplosività la vedo cioè io vedo una squadra che nei confronti diretti nelle corse nel rincorrere dell'avversario non va alla stessa velocità delle altre squadre e quindi questo secondo me è un altro elemento di riflessione sarà dovuto per alcuni per gli infortuni che hanno avuto una condizione ancora da recuperare per altri perché magari non hanno giocato con continuità però io ieri ho visto Buttaro Buttaro sembrava un giocatore di un altro pianeta sul piano della corsa rispetto agli altri perché allora non è possibile che manchi la fame in certi giocatori può essere anche questo è un altro aspetto che secondo me quando parliamo di aspetto mentale secondo me è questo infatti molti della nostra community ci dicono che il vero il danno più grave è stato alzare l'asticella in corso di campionato ma sai non è problema di alzare l'asticella perché se tu non perdi per nove partite di fila e sei sesto in classifica ci sta anche se non lo dici ci sta che sei lì e che hai un obiettivo davanti ma se lo dici crei l'aspettativa Salvatore però parla di fame e fame significa che Brunori non ha la stessa fame a cercare il gol che Valente non ha la stessa fame a cercare il dribbling come tre mesi fa o che che so Nedel Sauron non ha la stessa fame a saltare di testa sui calci d'angolo immagino Salvatore no? ci si hai detto hai detto bene insomma e questo è un altro tipo di problema perché dico nessuno potrà contestare alla squadra secondo me l'impegno il raggiungimento del risultato minimo io direi anche che tante di quelle critiche che stiamo muovendo più o meno giustamente sia noi che i nostri tifosi siano replicabili in almeno 13-14 squadre perché vorrei sapere se avesse perso 5-0 a Venezia Corini cosa sarebbe successo e ci ha perso in Modena che poteva invece scavalcare tutti quanti e andare nei playoff è una serie B anomala questa quindi io continuerei a guardare al presente però certo alcune domande me le pongo Salvatore ne poneva anche un'altra se tu prendi Verre sai che cosa sai cosa ti metti dentro il motore quindi se poi dopo 20 partite fai dei cambi perché il problema non può sopportare la presenza di Verre insieme a due attaccanti diventa un problema più più vasto ancora più complesso più complesso Giuseppe tu non so se vuoi aggiungere qualcosa sei stato il primo a parlare ma Guido il più grande mistero ripeto ce lo siamo detti tante volte il più grande mistero è capire che cosa è successo appunto dopo che avevi messo insieme quella striscia lunga positiva di risultati quando a quel punto ti dovevi solamente divertire siamo stati sempre qui a dire che il problema è stato alzare l'asticella e quindi siano venute a cadere pressioni sulle spalle dei giocatori però francamente ripeto faccio fatica a spiegarmelo perché dovevano essere veramente due mesi belli abbondanti di puro divertimento il più giustamente come diceva Salvatore da parte di però vorrei dire ragazzi io vorrei dirvelo in maniera diciamo pigliamo noi dobbiamo fare rosa e nero web e tv qual è l'obiettivo 10.000 contatti a trasmissione poi ne facciamo 50.000 e io vi dico ragazzi occhio ne facciamo 50.000 e improvvisamente non parliamo più bene perché c'è troppa gente che ci guarda ma il problema è un discorso che abbiamo affrontato più volte la pressione no ma piaccia non piaccia ma quanti giocatori di questa rosa hanno giocato a livelli di certe pressioni pochi pochi hanno vinto campionati molti sono al primo anno di serie B cioè mi pare che ogni tanto si perde di vista il dato complessivo questa è una squadra che ha fatto quello che doveva fare l'ha fatto di riffo di raffa l'ha fatto non giocando bene per alcuni giocando bene per altri ma andiamo a vedere i giocatori che ci sono in difesa abbiamo due giocatori che sono retrocessi e uno che è stato promosso in porta c'è un portiere che per quattro anni è stato in Romania e che l'ultimo campionato che ha fatto in serie B è il retrocesso a cui ne aggiungiamo altre due retrocessioni a centrocampo abbiamo un buon giocatore come Segre un giocatore che non è mai stato in Italia Gomez abbiamo Verre che deve fare la differenza poi abbiamo Valente che è al primo anno di serie B Brunori che diciamo anche se la serie B l'ha fatta l'ha fatta a spizziche e bocconi per sei mesi al primo anno di serie B è Soleri in questo momento in teoria che è al primo anno di serie B Tutino dovrebbe essere il valore aggiunto perché uno che ha vinto non riesce a farlo cioè c'è un filo conduttore anche nei vari problemi di questo Palermo se si chiede di vincere oppure no ma quando io dico che questo Palermo non ha fame e dico quello che stai esponendo praticamente tu cioè tutto quello che hai detto tu arriva poi ad una conclusione che questo Palermo se esprime tutta la sua qualità perché di qualità ne ha a dire e fa delle cose eccezionali come i 20 minuti nella normalità poi si perde è lì la differenza vera però io mi immagino se questo Palermo dovesse andare in serie A ragazzi io non mi queste trasmissioni le prendo e non le vedo più le possiamo buttare no però io su questo non sono d'accordo perché se tu mi avessi chiesto l'anno scorso a fine marzo quante possibilità hai il Palermo di andare in serie B ti avrei detto una su cento e non me lo sarei rimangiato neanche alla fine perché queste erano le cose il problema è fotografare anche la realtà poi ci possono essere le eccezioni se questo Palermo perde tutte e tre le partite o le vince tutte e tre rientriamo in una fenomenologia abbastanza non normale il problema è accompagnare con le critiche che riteniamo giusta ovviamente un percorso di crescita che secondo me negli ultimi tempi non c'è stato io le critiche che abbiamo fatto in questa trasmissione non le rinnego sicuramente mi auguro che poi Corini trovi il bandolo della matassa un Corini che poi tra l'altro rispondetemi in maniera telegrafica mi è sembrato leggermente più nervoso negli ultimi 15 giorni Fabrizio sei d'accordo? Sì o no? Ma sì perché 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 vede che il Palermo non riesce a switchare quindi le domande nostre sono bene o male le stesse e vertono sempre sugli stessi problemi lui cerca di dimostrare vorrebbe dimostrare che la situazione è molto meno peggio di quella che sembra però i risultati non l'accompagnano con una vittoria e quindi è chiaro che anche lui probabilmente si sente a disagio soprattutto per quello che lui ha nei confronti di questa piazza per i suoi trascorsi e per il fatto che ci tiene a voler fare bene io la leggo così Il tempo sta volando Salvatore Corino è una persona responsabile quindi ovviamente si carica si carica maggiormente quando le situazioni non sono non sono più normali non sono vincenti è normale che ci sia un po' di nervosismo in una situazione del genere anche perché ti ripeto secondo me lui sa bene che deve esprimere un giudizio che poi è lo specchio di quello che la società vuole Giuseppe ti cambio la domanda in corso perché manca poco tempo e volevo introdurre rapidamente il terzo argomento di oggi che è quello di una coppia di esterni Sala e Buttaro che al di là di tutto sicuramente hanno interpretato il ruolo di questo 352 nel modo migliore possibile cioè considerato che era una coppia nuova l'abbiamo definita la strana coppia mi pare che Buttaro si è stato promosso e anche Sala sarebbe stato il secondo migliore in campo senza quella disgraziata entrata che ha provocato il rigore disgraziata entrata sulla quale comunque Guido sono sincero ho ancora tanti dubbi più la vedo si toccano le gambe purtroppo purtroppo lui nella corsa provoca un danno è dietro e provoca un danno comunque per queste ultime partite ci vogliono più buttaro a questo punto come diceva giustamente Fabrizio un giocatore che ha dimostrato di avere tanta fame di avere voglia di avere gamba anche per per questo finale di campionato che è quello che è quello che serve Sala comunque è sicuramente a mio modo di vedere uno dei dei promossi di questa di questa di questa stagione mi è sembrato assolutamente un esterno affidabile tra l'altro capace di adattarsi a diversi schieramenti tattici da parte dell'allenatore sicuramente è una coppia che ieri ha funzionato rilassandomi a quello che dice Giuseppe ti immagini tu un Corini che per Podermo Spal ha salvezza acquisita da spazio a qualcun altro più giovane più Soleri Damiani Buttaro magari anche Graves per così questo non lo so bisogna capire la settimana non credo i segnali che ha lanciato lui anche nelle conferenze stampa ha fatto capire che cambiare tanto potrebbe essere deleterio in questo momento però Salvatore Buttaro è stato alla grande ieri ma appunto ti stavo dicendo fammi dire una cosa perché tu parli di una strana coppia io ti parlo di una coppia perfetta invece Buttaro ha 20 anni e Salani ha 23 Buttaro ha una una strada davanti e il giovane del Palermo forse su cui si può investire meglio e Salah è uno che già ha accumulato una grandissima esperienza in B e questo è il quarto anno da titolare quindi a me pare una coppia che possa invece fare molta strada e che possa proporsi anche in condizioni in cui si può alzare veramente l'alzichella bisogna bisogna confermarli e rilanciarli prima di chiudere volevo dire che avremmo potuto leggere molti più messaggi abbiamo avuto qualche problema tecnico oggi i messaggi sono più di 200 e quindi abbiamo avuto anche qualche problema tecnico come si è vinto e quindi di questo ci scusiamo ma chiaramente li potete ritrovare tutti nella community della pagina social ci vediamo poi lunedì prossimo dopo Palermo Spal io mi aspetto una partita diversa ve lo dico adesso perché adesso veramente qualunque fantasma di retrocessione mi pare che sia scacciato io penso che la Spal debba venire qui per vincere quindi sarà una partita teoricamente aperta dove l'X dovrebbe essere l'ultimo dei risultati possibili anche per un padrone che ne ha fatti 15 e chissà che non ci sia anche un bel calcio questa è la mia la butto lì grazie alla regia grazie a tutti voi grazie Giuseppe grazie Salvatore grazie Fabrizio ciao ciao grazie a tutti